Flatex o non Flatex? Beh ovviamente Flatex, non c'è scelta. Bentornati sul canale, in questo video scenderemo nel dettaglio per cercare di capire che succederà al nostro cash non investito dopo il passaggio a Flatex e la cosiddetta apertura del conto in contanti. Vedremo perché DeGiro ha deciso di fare questa modifica alla gestione della liquidità. Partiamo dal descrivere la situazione antecedente al cambiamento. DeGiro, come abbiamo già detto in passato in altri video, non è una banca ma è un broker. In quanto tale, a causa della regolamentazione olandese a cui è soggetto, DeGiro non poteva detenere il denaro non investito dei clienti presso di sé, come fanno le banche. A causa di questa limitazione, DeGiro si serviva dei fondi comuni del mercato monetario come contenitore per la liquidità non investita dei suoi clienti. I fondi comuni monetari sono dei fondi che investono in titoli di debito a breve scadenza con un merito creditizio elevato. Le partecipazioni in questo fondo sono molto liquide e permettono un immediato smobilizzo dell'investimento. Appena un cliente depositava una somma nel suo conto DeGiro, questa veniva dunque immediatamente investita nel fondo comune monetario. Quando il cliente poi procedeva all'acquisto di un titolo, le partecipazioni nel fondo comune monetario venivano disinvestite per un ammontare pari a quello necessario per eseguire l'acquisto. Specularmente, quando un cliente vendeva un titolo che aveva in portafoglio, il ricavato dalla vendita veniva immediatamente investito nel fondo comune. Vi era dunque un fondo comune monetario per le principali valute estere. Se dunque si utilizzava la modalità di gestione della valuta manuale per una particolare valuta estera, ad esempio dollari, il nostro saldo in dollari veniva tenuto all'interno del corrispondente fondo comune monetario in dollari. Questi fondi comuni monetari erano un vero e proprio investimento e in quanto tale avevano un proprio rendimento annuale. Il fondo comune monetario in euro, per esempio, ha avuto rendimenti negativi per gli anni 2018, 2019 e 2020, come possiamo vedere dal suo KID disponibile sul sito di DeGiro. Questo comportava che la nostra liquidità non investita in euro venisse assoggettata al rendimento negativo di questi fondi. Per venire incontro ai clienti, DeGiro compensava questo rendimento negativo sull'ammontare di denaro non investito sui primi 2.500 euro. Se pertanto si deteneva un ammontare di denaro non investito inferiore o pari a 2.500 euro, la totalità del rendimento negativo del fondo veniva compensata da DeGiro. Se invece si deteneva una liquidità non investita superiore a 2.500 euro, sull'eccedenza rispetto ai 2.500 euro, il rendimento negativo era a carico del cliente. Il limite di compensazione veniva poi elevato a 100.000 euro per i clienti che generavano un elevato ammontare di commissioni. Sebbene questi fondi comuni monetari si possano considerare investimenti sicuri, vediamo infatti che nel KID questo investimento ha un livello di rischio di 1 su una scala da 1 a 7, non vi era nessuna garanzia per gli investitori in caso di fallimento di questo fondo. Il sistema di garanzia dei depositi fino a 100.000 euro che si applica ai conti bancari non era applicabile agli investimenti nei fondi comuni monetari. Come probabilmente già sapete DeGiro è stato acquistato da Flatex nel corso del 2020. Il termine del processo di acquisizione sarà a maggio 2020. Grazie a questa fusione DeGiro è riuscito a fornire ai propri clienti conti deposito Flatex per detenere la liquidità non investita. Questi conti deposito Flatex sono andati dunque a sostituire i fondi comuni monetari come mezzo per detenere la liquidità non investita degli investitori DeGiro. Ciascun investitore DeGiro dunque riceve un proprio IBAN Flatex intestato a suo nome. Essendo il conto deposito Flatex un vero e proprio conto bancario, questo è soggetto al sistema di garanzia dei depositi fino a 100.000 euro. Se dunque Flatex dovesse fallire, la nostra liquidità non investita è garantita fino a 100.000 euro. Questo è il primo principale beneficio del passaggio dai fondi comuni monetari ai conti Flatex. Più recentemente è stata data la possibilità agli investitori DeGiro di detenere anche la propria liquidità in dollari e in sterline nel proprio conto Flatex, superando dunque anche per queste due valute estere l'utilizzo dei fondi comuni monetari. Ricordiamo comunque che al momento non è ancora possibile depositare in dollari o sterline direttamente sul proprio conto Flatex. Quanto detto si riferisce solamente alle sterline e dollari generati all'interno di DeGiro tramite la gestione manuale della liquidità. Speriamo comunque che la possibilità di depositare in dollari o sterline ci sia data in futuro. Per le valute estere diverse da sterline e dollari, al momento viene utilizzato ancora lo strumento del fondo comune monetario per la detenzione dei saldi generati tramite la gestione manuale della liquidità. Abbiamo già visto nel nostro video che potete trovare qui che anche la liquidità depositata nel conto Flatex è soggetta ad un tasso di interesse negativo di circa meno 0,5% annuale. Anche per il denaro non investito sul conto Flatex vale la stessa politica di compensazione del rendimento negativo già prevista per i fondi comuni monetari. Ulteriore beneficio derivante dal passaggio al conto Flatex è la riduzione dei tempi di prelievo. Prima del passaggio al conto Flatex, infatti, per il prelievo erano necessari in media 4 giorni lavorativi, mentre con il passaggio al conto Flatex questo tempo è stato ridotto a 2 giorni lavorativi in media, lo stesso tempo necessario per l'accredito dei depositi. Precisiamo che il passaggio dalla soluzione dei fondi comuni monetari al conto Flatex è stato graduale. Inizialmente questa possibilità è stata data agli investitori DeGiro con un account già aperto. Attualmente sappiamo che l'apertura del conto Flatex viene effettuata già in fase di registrazione di un nuovo account DeGiro. Pertanto se vi siete appena iscritti a DeGiro avete già un conto Flatex. Se invece avete da tempo un conto DeGiro avrete notato che vi è stato reso disponibile all'interno del vostro account un modulo online chiamato Aprire un conto in contanti. La compilazione di questo modulo vi consentirà di aprire il conto deposito Flatex per il vostro account. Non lasciatevi ingannare però voi investitori DeGiro di lunga data. L'apertura del conto Flatex non è opzionale. DeGiro infatti cerca di spingerci verso l'apertura del conto deposito Flatex. Infatti trascorsi 45 giorni dal momento in cui c'è stato amesso a disposizione il modulo per aprire il conto Flatex, se ancora non l'abbiamo aperto DeGiro smetterà di compensarci il rendimento negativo per la liquidità investita nel fondo comune monetario anche per ammontare inferiori o uguali a 2500 euro. Inoltre il servizio clienti di DeGiro ci ha fatto capire che in futuro è previsto che tutti i clienti DeGiro abbiano un conto Flatex e che la soluzione dei fondi comuni monetari venga abbandonata completamente. Non è ben chiaro cosa farà DeGiro con i clienti che per qualche motivo si rifiutino di aprire un conto Flatex. Per concludere noi di DeGiros Investing riteniamo che il passaggio al conto Flatex benefici noi investitori. Abbiamo infatti visto che il conto Flatex ci dà la garanzia fino a 100.000 euro sulla liquidità non investita e ci fornisce inoltre una riduzione nel tempo necessario per i prelievi. Sospettiamo inoltre che maggiori benefici arriveranno in futuro come ad esempio la possibilità di depositare o prelevare in valuta estera. Non vediamo alcun aspetto negativo per gli investitori derivanti da questo passaggio. Se avete trovato valore in questo video lasciate un bel mi piace per aiutarci con l'algoritmo di youtube e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Se avete bisogno di chiaramenti lasciateci pure un commento e vi risponderemo il prima possibile.